Ciao a tutti! Oggi torno sul canale con un bel video ASMR della tipologia Get Ready With Me. In pratica mi preparo con voi. So che questa tipologia di video vi piace molto e vi rilassa, anche perché è l'occasione per chiacchierare. In questo caso parlerò di un tema che mi riguarda da vicino e che penso riguardi alcune persone di voi, ma è anche l'occasione per farvi ascoltare un po' di suoni che forse possono provocarvi ASMR, quindi tanti tingles. Mi raccomando indossate le cuffie e se questa idea vi piace sostenete il video con un like. Noi adesso iniziamo! Allora, se vedete il mio viso un po' rossato è perché ho fatto da poco una pulizia del viso made con un prodotto di cui magari vi parlerò in futuro. Ma adesso trucchiamoci. Tra l'altro ho indosso la maglia di Miyazaki. Qualcuno di voi forse l'avrà riconosciuta. È una maglietta che mi ha inviato Pampling. Vi lascio magari qui la fotografia. Quando avrò completato il trucco la farò. Oppure una veloce ripresa in cui posso mostrarvela meglio. E tra l'altro ciò in descrizione trovate il link se ne volete una uguale. Secondo me è fantastica. Infatti vi ho lasciato anche diverse foto su Instagram. Il codice sconto soprattutto è il FETI per ottenerla con il 15% di sconto. Si tratta ovviamente, ve l'ho arrivato sempre, di un link affiliato quindi se voleste acquistarla sicuramente aiutereste un pochino il canale. Ma veniamo a noi e iniziamo questo GAD READY WITH ME con la crema viso. Sto utilizzando in questo momento quella, la melagrana di la saponaria. È tra l'altro anche quasi finita. Ma mi sono trovata così così con la crema diciamo che la trovo molto nutriente. Forse troppo per la mia pelle. È una pelle normale, mista. in alcune aree, tipo quella del contorno occhi, dove tra l'altro questa crema, nonostante non sia specifica per il contorno occhi, può essere tranquillamente applicata. Diciamo in alcune aree la mia pelle è piuttosto secca. In altre è un po' più grassa, tipo qui. bene. Andiamo poi con il mio adorato primer di Benefit. Il Professional. Per andare a minimizzare un pochino. E questa sera ho un evento. Un evento molto carino. E penso che vi lascerò delle storie su Instagram. perché vado all'anteprima di un film di uno dei miei registi preferiti in assoluto. Se questo video uscirà dopo, lo avrete già visto appunto nelle storie. bene 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 bene. E voglio fare un bel trucco da sera. Intanto in sottofondo c'è Jessie che gioca con le lucine della testa. metto anche questo fondotinta di Waikun. E' un fondotinta che mi piace abbastanza. bene bene bene. Dunque qualche gocciolino così. In questo momento vorrei evitare appunto la zona del contorno occhi. dove andrò a mettere un po' di correttore. Per minimizzare le occhiaie. E' molto liquido questo. Dunque voglio iniziare a chiacchierare dicendo una cosa. il mio canale è nato per uno scopo diverso da quello per cui continuo a esistere o almeno diverso in parte ecco. infatti all'inizio il mio unico scopo era quello di aiutare le persone a rilassarsi a stare bene. non solo a rilassarsi perché ASMR non è solo rilassamento. a provare una sensazione diciamo piacevole ecco. e così staccare dai problemi di vita quotidiana. o anche magari sempre attraverso il confronto esaminare questi problemi e decostruirli. infatti c'era la mia rubrica la posta delle fate che era nata proprio per questo. nel tempo si è aggiunta in maniera sempre più forte la componente creativa. quindi il canale è diventato soprattutto espressione di creatività per me. il canale è qualcosa che io seguo perché mi diverte realizzare video. mi fa piacere e prima di rilassare voi rilassami in prima persona. certo la componente diciamo così umanitaria non è venuta a meno. sono felicissima a livelli proprio indescrivibili quando mi inviate dei messaggi in cui mi raccontate quanto l'SMR sia stato utile nel vostro caso a superare magari problemi di insonnia. mi fa tanto piacere sapere di poter essere con la mia voce una coccolina quando magari vi sentite soli. di regalarvi qualche sorriso o anche qualche spunto di riflessione. semmai è capitato. però ecco quello che voglio dire è che non potrei fare video se questo non mi piacesse. se lo sentissi come un obbligo, come qualcosa di dovuto. per me fare video è sempre stato e continuerà a esserlo, almeno per quanto riguarda questo canale. anche un modo per rimanere in contatto con la mia parte bambina. quindi questo per dire che non voglio smettere di fare video. certo è che in alcuni momenti le circostanze della vita ci portano a lasciare da parte anche le cose che magari ci piacciono. perché sentiamo di doverci dedicare a tutto tondo, a qualcos'altro, a qualcun altro che magari ha bisogno di noi. è un po' quello che è capitato a me. sono stata intanto mettiamo un primer per gli occhi a me. oddio non lo so pronunciare come al solito. e dicevo sono stata investita negli ultimi tempi da un terremoto di eventi. non tutti piacevoli ma nonostante tutto io sono una persona molto positiva e molto combattiva. quindi fin quando mi sarà possibile non interromperò quello che mi piace fare molto bene molti di voi in questi giorni, soprattutto dopo i miei ultimi aggiornamenti, mi hanno scritto che stanno attraversando dei periodi bui e mi hanno scritto anche di trovare la forza di non abbattersi, grazie al mio modo di prendere quello che viene, di continuare in perterrito. Applico intanto una matita marrone scura sugli occhi di ufidra, vado a contornarli e poi la sfumerò. Io spero di darvi coraggio. Nel dirvi che una soluzione alla fine si trova sempre, che non tutto è perduto, che quando pensate di non farcela, accadrà all'improvviso qualcosa che vi farà sentire più forti e vi farà capire che invece ce la farete. è passata una cornacchia. e vi dico comunque che secondo me c'è una sorta di amore universale che lega gli esseri umani c'è qualcosa che vi farà trovare conforto anche quando pensate di essere soli io sto vivendo un momento di incertezza non so a che fine farò quindi questa è una palettina che ho preso da Primark si chiama Berry Dolphins guardate che carina veramente bella e poi è cruelty free c'è il simbolo del coniglietto dietro lo vedete? ti voglio ti voglio fare un trucco sui toni del fragola ciliegia finaggia vediamo cosa esce prendiamo questo colore qui e insomma sì e insomma sì sono in un periodo di incertezza sono in un periodo in cui purtroppo subisco scelte non mie ed eventi sui quali non ho la possibilità di intervenire lo sentite intanto al vicino che si farà tutto sento scorrere dell'acqua probabilmente tutta questa esperienza mi insegnerà a vivere con l'idea del campeggio a vivere con l'idea della provvisorietà a convivere con questa idea sì e voglio imparare che non c'è nulla di male in questo non so se a voi sia mai capitato di trovarvi all'improvviso a mettere in discussione quello che magari avete costruito con fatica probabilmente probabilmente a qualcuno di voi è capitato sfumiamo intanto l'ombretto secondo me verrà un trucco molto carino e mantenere dei punti fermi come la community che ho creato attorno a questo canale e mantenere dei punti fermi non avete idea di quanto mi faccio sentire bene sarebbe carino mettere questo bianco che ne dite? proviamo? ma si dai proviamo la palettina non mi sembra niente male oddio il bianco come illuminante questo non è proprio il mio colore preferito però per una serata ci può stare erai dovuto cambiare pennello eh quello era un po' sporco di rosino ok un po' di violetto che però andiamo a sfumare verso l'interno ah perfetto proprio all'angolo dell'occhio mettiamo un piccolo punto luce e poi nulla ha senso se non concludiamo con la matita che andiamo a mettere all'interno mi ricordo perché ho smesso di fare tutorial di trucco tra l'altro questo make up è quasi non senza senza le ciglia finte proviamo a mettere un goccino di eyeliner vediamo cosa ne esce vediamo cosa ne esce mamma mia che brutto ecco perché odio l'eyeliner ecco perché odio l'eyeliner com'è avvenuto? com'è avvenuto? certo con questo applicatore non è proprio il massimo vediamo 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 se ingrandando leggermente la linea ecco così diciamo che avrei anche potuto fare di meglio però considerando le condizioni in cui mi sto truccando non è niente male mi è rimasto solo questo mascara di Wicon e che non mi va di comprare nuove cose quindi al momento dovrei smontare le dente che sono alle mie spalle e dovrei lavarle non l'ho ancora fatto non l'ho ancora fatto e chissà se potrò farlo poi dovrei finire di dipingere uno dei tuoi comodini della mia camera anche quello è un progetto in stand by non è una cosa sbagliata prendersi del tempo ma credo sia dannoso farsi diventare una brutta abitudine se per esempio quando vi accade qualcosa di poco piacevole vi mettete a dormire magari è ok perché state prendendo del tempo per voi stessi ma poi dopo che avete dormito fatevi un favore uscite chiamate degli amici create qualcosa di bello scrivete non fate sedimentare la brutta abitudine dell'inattività e del restagno il fondotinta che ho applicato contiene all'interno già la cipria quindi non ho bisogno di mettere la cipria insomma però voglio assolutamente proprio assolutamente completare la base facendo innanzitutto un pochino di contouring con questa terra fredda di Wagon che avete già visto poi andiamo a mettere un po' di blush prendo questa palettina di neve la palettina dei blush e prendo questo rosa wow mettiamo poi un po' di illuminante illuminante questo l'ho sempre preso da Primark secondo me è molto carino si chiama Brunch Club guardate com'è bello è un color rosa antico beige vediamo la camera non lo riuscirete a vedere ci vorrebbe tutto un altro tipo di luce però passiamo al rossetto cosa voglio mettere sono molto indecisa questo qui questo qui di Nyx che si chiama come si chiama come si chiama come si chiama non ha un nome Libli possibile Libli 12 Libli in realtà l'evento è fra diverse ore però questo mi aiuta a concentrarmi su qualcosa che mi piace quindi vediamo l'evento l'evento abbiamo un po' riequilibrato il trucco ok è giunto il momento di salutarci spero che questo video vi sia piaciuto abbiamo chiacchierato per un bel po' di tempo insieme e io vi do appuntamento come al solito se vi va al prossimo video bacini fatosi mi raccomando stay strong ciao ehi psss dico a te ti è piaciuto il video? non dimenticare di esprimere la tua preferenza con un mi piace o un non mi piace e se vuoi vedere altri video rilassanti iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi caricamenti trovi qui sotto un'idea della programmazione settimanale se vuoi sostenermi e accedere a contenuti extra puoi cliccare sul tasto abbonati ed entrare a far parte della Fairy Crew ed entrare a far parte del bar ultimo video Grazie a tutti